I love you so much Allora Oggi è un tempo di cacca Però c'è una luce meravigliosa Quindi, holaci holaci Sono un cadavere, non so se vedete la mia Carnagione così Candida La odio, io non sono mai stata così Bianca, in questo video voglio Vedere se riesco, ho perso il pallino E' quello? Sì, dovrebbe essere quello Non sono mai stata così Bianca Ero, ero, ero Olivastra, non vi dico se sono andata a comprare un fondone Ieri E mi sa che mi hanno dato un sottotono rosato Quindi con questo dico tutto Allora, mi sono lavata la pelle adesso Ok Allora, ci avrei un po' Dei prodottini nuovi da farvi vedere Però Siccome ho visto che girano un po' di video Da fare Allora, in poche parole Vi volevo fare un video Dove vi mostravo soltanto prodotti di una certa marca Però Non lo posso fare perché C'ho solo poche cose più Ecco, insomma Però vi vorrei mostrare Un po' di robetta nuova Ok Proprio Fesca pesca Quindi Avevo preso l'altro fondo Però Vabbò Allora Vanno alle sciabatte e cominciamo Allora, mi son data Vedete che brillo come una gomeda Mi son data Mi son data questo Perché l'altro giorno andai a comprare Alla gardenia Quello della smashbox Scusate le mie unghie Lo so Sono deretere Ma Sto aspettando di comprare Lo Sì Cami Di comprare Oh mio Dio Il Il gel E di rifarmeli E mi faccio Quelle un po' di unghie Quelle lì Che per pulirsi Il buccio De gulo Bisogna manantro E stavolta Me li faccio Tanto adesso Non lavoro O faccio E Dunque Ok E E la ragazza mi fa Guarda Mi è uscita Per questa linea Naturalmente Non so quando Non so quando Vedrete questo video Ma è già un po' Che ce l'ho Erano usciti da un giorno Se non di più Un giorno due E quindi ho preso Sia il primer E il Prondo Che ho visto In un video Di Giulia Bencin Che a me piace Moltissimo Anche se siamo Due opposti Proprio scema Mamma mia Anche se Secondo me Si giustifica troppo Nei video Perché probabilmente Qualcuno L'attacca su determinate cose Non l'attacca Però Ha dei pareri Discordanti E lei si giustifica troppo Giulia Sei strabella Sei una favola Fai dei video Arbacio Ma che cacchio Te ne frega di giustificarti Lei secondo me È troppo buona Si giustifica Cosa che io fossi lei Manderei tutti Altamente Avete capito Ora non voglio essere volgare Oggi ve l'ho detto Allora Questi capelli Tanta breve andranno Perché siamo a 3 minuti di 10 E ciao Quindi la ragazza mi fa Guarda È uscito questo Costa molto meno Perché Quello della Smashbox Costa 38 Pampanozzi Io ho il fondo Della Smashbox Sono andata a prenderlo Dal mio papà Perché Ho tantissimi fondi E veramente Le devo Smaltire Perché altrimenti Se mi vanno a male Sbrocco E Niente Quindi Me sono preso questo Che è strailluminante Fabuloso Che se non mi sbaglio Ci dovrebbe essere altri colori Io ho preso questo qui Neutro E dovrebbe essere una base illuminante No Base illuminatrice Come primer Fa schifo Non lo usate come primer Perché se non c'avete un altro primer O vi mettete qualcosa al di sopra Questo qui non regge niente Allora E quindi vi volevo far vedere Il Ciao Anche l'illuminazione Sì vabbè Ciao Anche il Focondo Tinta Che devo dire Invece Non è dispiaciuto per niente Però ne ho comprati parecchiotti In questo periodo Avendone già pochissimi E avendo detto Due secondi fa Che le avevo smart Cosa vado a comprare Il fondo Tinta Vabbè Questo qui però L'ho preso un bel po' di tempo fa Oramai Si parla di due mesi fa Ed è il full coverage Foundation and concealer Ok Però Vedo 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 Questo E ve faccio vedere questo E poi dai Vi faccio pure tutta Vi farò Un'all di tutta la roba Che ho preso E vi farò vedere I fondi nuovi Che ho Praticamente Cosa che naturalmente Nel caso Ah Ce n'ho anche un altro Aspettatevi Ve lo faccio vedere Mi dovete dire A questo punto Perché Me lo dovete dire voi Perché Io avevo Intenzione Perché come avete visto I miei video Qua giù In fondo Ci appare una scritta La scritta Del Del programma Che uso per editare Non è che mi pagano Magari Però Non avendo comprato Il Il costo intero Il pacchetto vero Insomma Ed è una prova Ma appare scritto Ragazzi Sono puliti Di due secondi fa Andiamo Posso fare E poi Ho questa pinza E ho preso Pure questo Allora Lo vedete scocciato Perché tipo Mi si è rotto Ed è Il Lasting finish Allora Questo è un fondo Che era una vita È una vita Che volevo comprare Che faccio O compro No O compro Che cazzo Ho detto cazzo E E quindi L'hanno rimesso Penso Io l'ho pagato 13 euro Da acqua e sapone Cioè Sono me È una cifra Importante Per un fondo 13 euro Però devo dire Che mi sta piacendo Tantissimo Ma è una vita Bimbe Che c'è sto fondo Come quello Della Avete capito Della corda perfetta Che io avevo E vi farò vedere Che ce l'ho ancora Il vecchio Che è insieme A sto punto Vi faccio Il prevello Le prendevo Entrambi Alla cops Questi Le prendevo Tutte e due Alla cop Aspettate Vi faccio vedere Perché se non Ci si capisce C'ho anche uno Della Lancome Da finire Vabbè Parlavo di questo Del Superstay Lo prendevo Insieme a questo Questo è Non c'è la cosina Vedi Il Dream Satin Fluid Che anche questo È molto buono Ora io questo Lo sapete Quanto è che ce l'ho Io penso Sarà Due anni Non l'ho mai aperto Anche perché Giù da babbo Nella mi roba Uno Aperto Da finire Quindi Vabbè Comunque Ok Quindi Mi farebbe piacere dirvi Quale volete Che io usi So anche Che si può fare Una cosa del genere Io posso Interagire con voi Vi prego Datemi consigli Su consigli Perché Voglio diventare Una youtuber Serissima Di quelle Proprio Cioè Tedesca E Cioè Ora se non smetto Di toccare A me la pelle Cioè Mi do Uno Mi autoschiaffeggio Quindi Dai Mi do Questo Che bene o male È uno dei nuovi Quindi almeno Ok Provo a legare I miei capelli Solo adesso Che me lo do Perché se mi viene avanti Allora Il primer Non l'ho messo Ecco Però me li potrei legare Così Vabbè E Però mi do Dopo lo spruzzino Quello della Glam Glow Allora Io Tante odiano I fondi I stick A me sinceramente Non Non Fanno molta differenza Ecco Diciamo così La pelle Ultimamente Non ho una grandissima pelle Però Lo spungo Allora Io sto riprovando Qualche volta Ad usare la spugnetta Penso di essere L'unica In tutto Youtube Che non la sa usare Ma non è che non la sa usare Ma è lenta Cioè Non avendola mai usata La mia Applicazione È lenta Ecco Lo sappiamo Uscitavo Di fondo La mia applicazione È lenta E mi innervosisce Tantissimo E basta Quindi Che se fotta La spugnetta Tanto tutte sapete La spugnetta è bella La spugnetta è magica E quindi Tutte usate la spugnetta E quindi Non avete bisogno Che ve lo dica io Dai Ok Allora A me questo fondo Piace assai Devo dire È un fondo Qui c'è scritto Infallible Stick Sculpture C'è scritto un cavolo Praticamente Stick multiuso Ah A lunga tenuta Devo dire Che Sì Ha una buona tenuta Allora Ultimamente Sto anche Faticando a trovare I colori dei fondi Perché Non so se sto cambiando Colori sui pelle Praticamente A parte Vabbè Un po' di Abbronzante Me lo sono sempre dato Però Il ritiro spirituale Ce l'avevo Ma non me lo davo Perché non me Cosa fregade Meno E quindi Ora mi sono fatta Una lampada Che però Non si vede E niente Vabbò Però Odio vedermi Lo stacco veramente Dal col Comunque Nella realtà È molto più scuro Non capisco perché Però Cioè Sembro più scura Ecco Allora Non voglio fare niente Di che Cioè Non mi truccherò Anche se avrete A far vedere Non mi truccherò Gli occhi Anche se avrete A far vedere Una palette Mio dio Ma tanto Ve la farò vedere Vedete Dai ci siamo Come colorazione Ora comprerò Anche una luce Ora comunque Ve lo farò vedere Alla costa Però Me la farò a mano Penso E se poi viene bene Ve lo faccio vedere Ma insomma Vedete Scessemo Ok Allora Questo è molto coprente Devo dire che Per chi ha la pelle secca Secondo me È anche molto Corposo Come fondotinta Se lo stendete bene Non ha Boh A me non fa Nell'effetto mascherone Anzi È bello coprente Come questo Voglio prendere Quello della Rimmel Ma Ho sentito dire Che è molto leggero A me fondi leggeri Non C'ho già Qualche BB cream Qualcosa c'ho Insomma E quindi Avevo un fondo leggero Ma mi frega Il giusto Questo è bello Però Bello corposo Forse perché Ha la pelle secca Può essere un po' Cioè A me non mi sembra Molto Mi sembra bello Potente E per chi ha la pelle secca Forse vi può evidenziare Qualche Rughetta Qualche Non rughetta Qualche Quando la pelle secca Vi fa Insomma Quelle Vi evidenzia La pellina Insomma Ora io stamani Non parlo Dimmi E quando è che parli a me Ok Allora Poi Come correttore Avete visto Che avevo lo smashbox A suo tempo Che adesso Questi cazzo Di allarmi Che avevo nel Nel coso Laggiù Adesso non prendo Però ultimamente Sempre I miei acquisti Vabbè Ho comprato Questo Che è il correttore Della Vette Wild Pagato 3,90 Viste col fondo Mero trovata E mi sono trovata Da diossi Da diossi Da diossi Ed ho preso Un Ci sono diverse colorazioni Io ho preso Il Medium Tone Le 842B Non metto a fuoco Assolutamente Allora Devo dire che a me Non è che faccia impazzire Questo correttore Non è molto È innanzitutto Molto aranciato E quindi O lo metto Al di sotto Spesso O lo uso Quando non voglio fare Alla io il baking Cioè insomma Di fare Il bianco Sotto gli occhi Ecco Non voglio fare Breaking Cose Perché Anche perché Poi magari Scazzo parole Vabbè E quindi Devo dire Che non è malvagio Però ecco Non è Lo uso appunto Per coprire Gli spazi Gli spazi Cioè Ma che cazzo Sto a dista Mani Cioè Vabbè Comunque Come vedete Non si vede niente Cioè Non si vede Che ho dato Sì Copre Un po' L'occhiaia Ma insomma Ecco Non è che mi abbia fatto Un pazzi Però per 3,99 euro E comunque Tanto l'ho preso Ora è pochissimo Quindi Mi ci devo Ancun attimino Cruciare Ok Altro acquisto Che invece Mi sta Porca minonna Piacendo Piacendo tantissimo E Perché lo rimetto La confezione Non lo so Però io ce lo rimetto È questa Ho preso La Bright Up Di Essence Perché L'ultima Che mi avevate visto Usare Cioè Io Vabbè L'ultima Che mi avevate visto Usare È Terminé Je l'ai terminé E Ultimamente Come vi avevo già detto Mi tira capelli Cristo Ero riuscita A non toglierlo Come vi avevo detto Mi stava piacendo Molto le cifre Un po' più chiare Ce l'avevo Avevo altre cifre Da utilizzare Mi dice Cosa cacchio Te la compri A fare Cioè Potevi finire Ve le avevi Però Visto che questa qui È tipo una banana powder E infatti È una banana powder E poi Costa 3,90 euro Insomma Mi è piaciuta l'idea Mentre mi sono comprata Altre cose Ho detto Vabbè Pegliate questa E E proprio Cioè Ottima Mi piace Moltissimo Per il rapporto Qualità prezzo Però Comunque sapete Quanto a me Piaccia la Essence Quindi Ma penso Come a tutti voi Cioè Allora Pegliamo Pegliamo Io uso 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 questo Ultimamente Per dare questa cifre qui E non questo Ma stamattina Voglio provare questo Ma questo sarà da fondo Niente Oh Gesù Gesù bambino Oh Il nostro bimbino Con quel Allora Vabbè Oh Eccolo qua Questo Eh C'ha un sacco di dispersione Fa un sacco di Eccesso Però Praticamente Vi faccio vedere Il trucco Che mi faccio Ultimamente Questo e basta Occhi Di paletto Nel senso Niente E mi metto Il ciglione Finto E via Allora Ollè Dagli un caffè E già così Sto troppo scura Io però Cioè Rispetto a qui Mi vedo troppo scura Vabbè Sono diventata un po' Fissata su sta cosa Però Allora Fatto ciò Mi ci vuole un pennello Più dispersivo Perché Voglio che non mi dia Troppo Perché è molto Mattificante Allora Per caso L'altro giorno Visto che comunque Sempre quella di Puro bio Che uso È momentaneamente Nel mio Antrone dei trucchi Qua sotto Che poi sistemerò Con calma Perché naturalmente Devo prendere di nuovo A flip Dello spazio Perché Vabbè Questo ve lo spiegherò poi I miei I nostri Progetti E ci vuole del tempo Quindi Purtroppo è così Prendo questa È una paletta Che non so Se vi ricordavate Che l'avevo presa Da una collaborazione Su un sito cinese La trovate tranquilla Non mi dove le via Mi fa male i capelli Sta sacchio di pinza Potevo pigliare Quell'altra Che ci fece Una collaborazione Tempo fa Che c'avevo pure Quella più chiara Se vi ricordate Perché uso questa Perché Questo ve lo spiegherò Innanzitutto È un colore Freddo Ed è Pazzesco Lo adoro Perché Perché si sfuma Da dio Non è troppo Quando lo mettete Non ti dà Quella pedata Fra capo e collo Che di solito Mi faccio E sembro Allora Vi faccio vedere Eccolo L'ho detto in tempo Perché non ho battuto L'eccesso Chiaramente Però se vedete È molto sfumabile Insomma mi piace Mi piace Molto di più Per esempio Quella della Per carità L'adoro Quella di Purvio Ma È bella cadolla Nel senso Allora Si druscia E si batte Oh vedete Invece non la batto Ecco Praticamente Dovrebbe far così Insomma Ha questo leggero Che mi ci vuole Un po' di più Però mi piace Molto di più Perché mi dà Ecco Insomma Non mi garba Troppo Specialmente Per la mattina O quello che sia Non mi garba Se è troppo Cioè se è più naturale Meglio è Ora 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 Sti apelli E fefano Un laccino Non c'è Una mazza Ora poi mi tocca Spenge Andranno a prendere Un altro Ve lo fa tutto a dritto Allora Allora Andiamo avanti Andiamo avanti Matita La sopracciglia Perché poi in fondo Il foglio di no Se vi sentite male Io lo so Cascate in terra Quindi Allora Matita La sopracciglia Adesso sto usando Quella di Bella Oggi Perché 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 non sono più Come vedete Purtroppo Marrone Ma sono diventata Di questo rosso Schifoso Pessimo Oh mio dio Cioè Fa rescere Fa schifo Però Per adesso Neanche ho voglia Di farmi il colore Perché Comunque Mi fa schifo il rosso Però come colore Non mi dispiace Nel senso Non come colore Come tonalità Ok Perché Il marrone Scuro O il nero Mi starebbero Troppo scuri Invece Questo Colore qui Essendo un rosso Anche se il rosso Io l'odio Vedete Mi È un po' più chiaro E Ultimamente Mi piace di più Tutto qua Ecco Questo invece È il mio colore naturale E quindi Vabbò Se le lascio così È tutto un toccarsi Me le tocco così Figuratevi se no Allora E quindi Perché uso Questa invece Di quella della essence Perché questa è rossa Tende ad essere rossa Invece quella della essence È un marrone scuro Infatti Se vedete L'ultimo catredi Che vi ho messo Si vede benissimo E Le ciglia sono molto marroni Invece questo è perfetto Comunque Dai Faccio le ciglia Voi non avete idea Che mi era venuto Un bollicino In una ciglia Che mi ha fatto vedere Le pene dell'inferno Cioè Ho patito Le pene dell'inferno Per un cavolo Di bollicino E anche questa Costa pochissimo Non quanto Quello della essence Però È un'altra cosa Poi ve la faccio vedere Però Come prezzo è buono Ci siamo Non so se sto 3 euro Una cosa così Allora Fatto ciò Mi sono tagliata pure Le ciglia Nel senso Tutte per benino L'ho tagliata Mettendoli in su Ech ech Davanti Gli si dà Una sfumatina così Luce Stanno già ricrescendo Ma vabbè Voglio vedere un film Ieri sera c'è stata La La Sono tutta Una ciratrice Ma poi sapete Quale è il brutto È che nelle pelle Come le mie Scura come me Che poi sono un cadavere Però allo stesso tempo Sono scura Come pelle Non dovrebbe Vabbè E Non vanno via Diventano nere Invece di Di andare via Nelle gambe C'è un morso Di un cane Che vi giuro Vi farei vedere Allora Fatto ciò Guardate cosa ho preso Io Ultimamente Mi ce sto Trovando pure bene Allora Ce l'ho uno Che mi ha mandato Una ragazza Mi sembra Silvana Ma non vorrei Di una fregnata Della Benefit Il Il cosino Quello per Che però Purtroppo Nel caso Lo devo trovare Perché ho tutto Come vi ho detto I miei trucchi Sono tutti da sistemare Ora riprenderò Un po' di postazione Qui a Philips A Philips E uso questo Che è praticamente Quello della Essence Il gelino Che trovate Vi ricordate A casa di Aline La sua sorella Lo usava E non è male Perché le ciglia Me le manda Capito No no Mi piace Ok Va boh Perfetto E questo è il lavoro Che faccio io Solitamente Ora Vi faccio vedere Io ho preso Due mascara Uno della Smashbox Tre 25 euro di mascara Ed è stata la cosa Peggiore della mia vita Perché è veramente Una ciofecata Questo è il mascara Della Smashbox Sì Unito ad un altro mascara Non è malvagio Però 25 euro Di mascara Ti venisse La pullera Al culo C'è quello Della Guerlain Allora C'è uno sconto Del 25% Fino a fine mese E veramente Merita A padella Ragazzi Vi merita a padella Per quale motivo Perché andate a spendere Delle cifre Spettacolari Infatti Infatti Quel mascara Della Guerlain Che voglio io Costa Costa 38 Mi viene Lo vengo a pagare 27 Insomma Ottimo Quindi Penso che userò Il mio sconto Del 25% Per fare questa cosa Non volevo fare niente Del L Allora Ho preso questo qui Che è della Wet Wild Ho pagato anche questo 3,90 Era per questo Mi volevo fare Un po' tutto Della Wet Wild Perché Mi volevo mettere Prodotti nuovi Comunque Della stessa marca E E devo dire Che sì Allora Vi faccio vedere Uno scovolino Un po' particolare Vedete C'ha questo E per 3,99 Vi posso dire Che non è malvagio E la ragazza Che Della Cardenia Invece Mi ha regalato Questo Che è un Pupa Vamp Però Non è il Vamp È il Definition Allora Questa è un Mascara Spaziale Considerate Che io Odiavo Il Pupa Vamp E voi lo sapete Che io Odiavo Il Pupa Vamp È un Simple Questo Infatti è piccolo Allora Questo si muove Vedete Ed è Super Fenomenale Adesso Vi faccio vedere Comunque L'application E vi posso garantire Che Se volete Un buon Mascara Questo Le vale tutti Anche perché Comunque Non è È È buono Comunque Erlen Però Allo stesso Tempo Ha un prezzo Che è la metà Del Guerlain Quindi Penso costi Pochissimo Rispetto a Quindi Naturalmente C'è le fibre Come in tutti Mascara Ultimamente Però Vi faccio Vedere Ah Caspita Mi volevo mettere Le ciglia Finte Infatti Però Ora Me le metto Prima Ve lo faccio Vedere Però Se no Come facciamo Volevo Vi posterò Vi posterò Questo video Però Dovete Considerare Che roba È uscita Veramente Adesso Volevo Essere La prima A mostrare Tutto Ma naturalmente Non posso E quindi Vado A fare Quello Tutto Vai Vedete Che figata Ok Mi metto Le ciglia Finte E vi volevo Dire Che l'altra Volta Mi ero Lamentatissima Vi ricordavate Siamo a 26 Minuti Pensavo Peggio Vi stacco Delle ciglia Finte Perché altrimenti No Non devo Farcela No Devo Staccare Mi metto Queste Che mi Mandarono Quelli Della Purgher Anche Se faccio Veramente Fatica A metterle Secondo Me C'è un problema In queste Sopracciglia E ho scoperto Che era la colla Che era fallata Quella Vi ricordate Vi dicevo Oddio la colla Era quella Che era fallata Porca troia Allora Non capisco Perché non riesco A mettermi Queste sopracciglia Le altre Le metto Benissimo Ecco Questa è rimasta Pure usata Queste non lo so Perché Fatto sta Che faccio fatica A metterle Adesso Stop Un sacco di tempo Poi perdiamo Per mettere le ciglia Sapete che sono Chauffera Allora Finish Ecco qua Praticamente Queste sono le ciglia Sono molto belline E vi metto Visto che È stata una collaborazione Quella che mi mando Tutte le maschere Pure Dermitalia Io vi lascio Nell'info box Anche il link Delle ciglia E queste Il problema Di queste ciglia È che non c'è scritto Il nome Vabbè Comunque E questo è ciò Che mi faccio Mi faccio Una bella base Ora mi metterò L'illuminante Con le ciglia finte Ma che c'è di più bello Ecco Mi si è staccata La ciglia finta E posso Pestermiare Allora Diamo una sistemata Uso questo Per il della Smashbox Veramente Guardate Sarebbe da Da chiamare La Smashbox Contattarla E dirgli Avete idea 25 euro Di mascara No Io non lo so Io Quello Della Quello Fighissimo Che avevo Strapromosso Della Procca miseria Ora c'ho Un flash Dai Quello rosa In farmacia Ora non mi viene Cioè veramente Sarei da schiaffi Lo so Però 21 euro Di mascara Ed è Il mascara Penso migliore Al mondo Se qualcuna Di voi L'ha preso Fatemi sapere E' veramente 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 La svolta Cioè Quello Della Guerlain E' bellissimo Forse di più Però quello Della Guerlain Ha un costo Di 38 euro Comunque Mentre Ora vabbè Perché c'è lo sconto Uno Ogli combiano Di comprarli Due o tre Ecco Mi sono cavata Un occhio E' veramente No O ne compri Due o tre Quando c'è Sto sconto O se no Ok Vabbè Questo è Ok Al di sotto Uso però Invece Questo Vì Della Questo Bello Bello Ora sentirò Quanto costa Quasi quasi Me lo prendo Vedi 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 Vedete Non vedi Però Allora Mi comincio a Favare la pancina Dalla fame Ho fatto pure Merenda Allora Adesso Queste si mettono a posto E vi faccio vedere La cosa che farà Svegliere Mi raccomando Tenetevi forte La sedia Perché Questa è grossa Allora Come sapevate Ve l'avevo detto Che me la volevo comprare Quella di Quella di Hat Von D Allora Mi ha regalato Una ragazza La palette di Hat Von D Prima di partire Voi lo sapete No Me l'avevo detto Naturalmente Però Non è Allora Non è Quella che volevo Io nel senso Io volevo Quella Fatta La Skinner Quella fatta A bara Ma lei è stata Talmente carina Innanzitutto Non gliel'ho detto Quindi Lo scopri adesso In diretta Lei Però Va benissimo Cioè La adoro L'amo E quindi Per l'altra Me la volevo prendere Da me Non ho fatto un tempo Perché era un'edizione limitata E quindi Non la prenderò più Però Lei è stata Un angelo E la ringrazio Davanti a tutti Oddio Allora Il nome Era un nome Molto lungo Anche perché Ora io Non ho riguardato Da quando sono partita Betty Book C'ha come Logo Del suo Account Però Ora non mi viene Comunque farò un video Quando farò magari Il video parlato E tutto Mi ricontrollo Il nome E la ringrazio Ma la ringrazio Qui in diretta Grazie Davvero Con tutto il cuore Sei stata Pazza Perché sei stata pazza Ma Cioè Veramente Non dovevi Perché È stata la cosa Più bella Quando ho aperto Per il pacco È stata la cosa Più bella Della mia vita Cioè Mi fate veramente Sentire male Siete Siete uniche E irripetibili Io non ho veramente Nient'altro da dire Se non Ringraziarvi Per tutto E basta Ora non voglio fare La La noiosa Infatti c'è una Accola E non vedo niente Non voglio fare la noiosa E quando tanto farò Il video parlato Oh madonna Dove vi parlerò Un po' di tutto E vi farò Anche vari Ringraziamenti E da qui in avanti Voglio fare anche Il video dei saluti Nel senso Vi voglio anche Mettere dei saluti In fondo Perché non ho capito Sì siete tante Però Se i saluti Me le fate In quantità giusta Ce la famo Allora State fermi Siete pronte La volevo prendere 40 euro Da beauty bay E non sono stata In grado Non so Perché Quando sono andata a pagare Mi dava Che dovevo Mettere Il costo di paypal Per avere La tutela Indirizzo Codice fiscale E non c'è stato Versi di pagare Quindi se non mi sbaglio L'ho presa Da machillaia Questa Ed ho preso anche Un suede Della NYX Io ho sentito Anche Tanti pareri Discordanti Ma a me questi NYX Suede Piacciono Tanti Piacciono Piacciono Veramente tantissimo Il mio è Il 22 Downtown beauty Una favola Cioè E poi c'è da farvi Un sacco di Un sacco di cose Vabbè Quello vi farò Lull Così vi sentite male Allora Questa Come tanto lo sapete Fatemi sapere innanzitutto Se vi interessa Una recensione Sul prodotto Ve la faccio vedere E me lo metto E poi sta finita Allora E' questa This Ed è questa Allora Me lo metto Mi metto stamani Il verde Cioè Vedete Vedete no Non so se vedete E l'altro giorno Visto che ho Uno di questi De la Jeffree Star Falzati Ho cercato Di rifarlo Il lavender E devo dire Che non mi è venuto Proprio schifoso Anche quello Anzi ve lo faccio vedere adesso E' una favola Stavoletto E comunque Ho notato Che c'è Ice Gold E altri tipi Sono proprio dei State attente Perché sono Quelli grandi Che lui ha fatto Quindi rischiate Magari poi di prendere Qualcosa Avete già Controllate Perché Alcuni Alcuni sono Penso Nuovi Mentre altri Per esempio Ice Gold C'è Tra i suoi Illuminanti C'è Un naso rosso Forza di Grattammelo E poi Uno si dovrebbe Incazzare Perdi tanto tempo A truccati E poi Vabbè Comunque Bella Mi piace Naturalmente Non quella Di colori caldi Perché lo sapete Per me L'illuminante È Ghiaccio Allora Ho provato A rifarlo Con l'amica Con l'amica E Siccome era Lavander Quello che mi stava inviato Invece non lo era Vedete Il Sofac Gold Doveva essere Di questo colore Allora Cosa ho fatto Ci ho preso L'ombretto Viola E ce l'ho messo Allora è venuto Con l'amica E più con qualche Ombretto Ve lo faccio vedere Allora Non è Questo è il colore Vedete Allora non è Più che altro Vedete Sì Però non è Straccangiantissimo No proprio Però mi piace Perché mi dà Quel leggero Violetto Che mi piace Anzi ve lo faccio vedere Fiamo così Allora Vi faccio vedere Vedete Lo dovete Fate Vedete Sicché è una figata Ma va Ditemi cosa non è Cioè Scusa Magari sotto ci metto Un Un prodotto gadollo Nel senso Un bel illuminante Gadollone Eccolo qua Allora E ora sto provando Gli illuminanti celesti Cioè ragazze Mi vedrete Con un illuminante celeste A me sia chiaro Vabbè E niente Fatto vedere questo Mi metto il suede E finiamo qua Quindi fatemi sapere Se vi piace anche questo Mi scocciavo a buttarlo E come questa Che però la do Penso la butterò Questa Ho rifatto lo stesso Questo Questa a differenza del suo È molto più chiaro Vedete È molto invece che viola Eccolo qua Più chiaro Però tutti gli altri Non Niente Non Non tingono Cioè Sono proprio Pasta Ed è un peccato Perché Tanti fake Io Sapete Io sono la regina Dei fake Tanti fake Sono anche validi Nel senso Che naturalmente Dovete È un fake Cioè Per quello che vale Per quello che costa Ecccccccccc Questo purtroppo È stato una scioccolata Quindi niente Vedremo Se lo riesco a mettere a posto bene Altrimenti Faccio tutto via Allora Mi do Il suele E poi Vi bacio Altre 10 minuti 40 minuti Chiaro Se qualcuno ha Delle Come poter fare Con questi cretti Che ho dalle parti Più che cretti Mi si forma E va via la pelle Allora C'ho da raccontarvi Tantissime Di quelle cose Che voi non avete idea Allora Io non avevo Dei NYX Suede La mia Franci Prima di partire Me ne ha venduto uno Eccolo qua È fantastico Un colore Meraviglioso Mi piace tantissimo E Anche Silvanina Vi mando un bacione Me l'ha inviato Un altro grigio Quindi Adesso ne ho alcuni Li sto testando A me questi NYX Questi NYX Suede Piacciono Mi piacciono Perché comunque Sono molto Morbidi Hanno una morbidezza Pazzesca Ultimamente Sto pure imparando A darmi Sì Sto imparando Pure a darmi I lip Perché ho riguardato Qualche vecchio video Vi posso garantire Che Un minimo fuori Ci devo andare Perché Non ho le labbra Grandi E veramente C'è Sendo una C'è Peccato Già così Un po' La meglio Ci si Va bene Allora Stringiamola Perché come al solito Ho fatto 40 minuti di video E non ho detto moltissimo Però Questa volta Mi sembra di essere stata Abbastanza Esaustiva Mi sto dando Questo della slick Come blush Perché Non uso più I blush Ce l'ho Sto tenendo un sacco di soldi Da parte Gli acquisti che vedete Comunque li ho fatti Risparati nel tempo E Spendendo pochissimo 10 euro Cioè Ho veramente i soldi Da parte ragazzi E vabbè Poi ve ne parlerò Vi voglio fare un ask Nel senso che Mi fate delle domande E poi vi rispondo Ok Mi volevo mettere Un marrone all'interno Se lo trovo Eccolo qua Essence Questo c'è No è Essence Cioè Questa è una matita di Cioè Che altro vediamo Se scrive Infatti non scrive Ok Da così c'è posta E niente Dai bimbe Con questo vi saluto Io vi mando Un bacione Perché vado a Magnare Fatemi sapere Se vi piace E vi interessa La recensione Di Jeffrey Penso di sì E niente Vi mando Un grande bacio Siamo sempre più tante E Il canale Sarà sempre più attivo Si spaccherà Il culo a tutte Io vi mando Un grande bacione Fate brave Spippeggiate poco Io vi amo Sempre di più Ciao my love